Buonasera a tutti, questa sera siamo qui con diverse band, questa serata che ha offerto probabilmente un'associazione musicale e culturale. Noi facciamo parte di tutte queste band e faremo soprattutto la differenza per un semplice motivo, che mentre siamo tutti giovani, questi ragazzi che partecipano a questa serata, noi abbiamo qualche anno in più e quindi faremo un repertorio un po' diverso per le persone di una certa età. Qui abbiamo la pezza al completo, abbiamo i cantanti, abbiamo i musicisti, se volete potrei anche presentarmi, così abbiamo a mente quello che dobbiamo fare. I brani saranno concepiti per gli anni 60 e 70. Abbiamo qui il nostro gestionista che è Alberto Di Pio Cianudia, con la nostra voce femminile e femminile, il nostro chitarrista, aspetta che mi interrotta.